leggende metropolitane luoghi e misteri ad essi collegati sotto gentile concessione degli amministratori del sito storie inspiegabili che trovate in descrizione in questo video mi accingo a raccontarvi questa storia buon ascolto rottaglie è una piccola cittadina nell'entroterra di taranto si erge sul pendio di una delle colline del murge ed è molto importante nel panorama artistico e culturale della puglia il suo centro storico è da sempre un luogo frequentato da molti artisti è qui che si crea l'arte e questa è l'arte che dà vita alle leggende fino dal medioevo nelle botteghe artigiane di grottaglie si producono opere d'arte popolare come i capasuni bellissimi recipienti di creta smaltata per vino simile alle giare dipinti con colori come il verde il marrone il giallo e il blu e arricchiti da simboli grottagliesi è in una di queste botteghe che nascono le cosiddette pupe con i baffi dei capasuni a forma di bottiglia con i tratti di una donna giunonica che raccontano una storia che si tramanda di generazione in generazione il racconto dell'origine delle pupe con i baffi ha inizio quando grottaglie era un feudo spagnolo e in quel tempo tra le varie leggi a vantaggio del feudatario vigeva la lus prima e notis che sarebbe il diritto per il signore del feudo di trascorrere la prima notte di nozze con le più belle fanciulle naturalmente tutti i mariti si dovevano piegare a questa infame legge pena la morte ma seppure raramente qualcuno non era disposto ad accettare la dura realtà si racconta che attorno al diciottesimo secolo un vignaiolo di martina franca avesse sposato una splendida fanciulla di grottaglie e per sottrarre la moglie dall'orribile sopruso si travestì egli stesso da donna per offrirsi al feudatario esiste una variante della storia che sostiene che lo scopo del vignaiolo fosse quello di uccidere il padrone sia come sia egli indossò un abito bellissimo colorato e alla moda con un prezioso cappello di piume e in questo modo riuscì ad ingannare le guardie l'illusione non durò a lungo nonostante la poca luce presente nelle stanze del palazzo il principe scoprì facilmente l'imbroglio dato che il vignaiolo aveva dimenticato di raddersi i baffi e decise in un primo momento di giustiziare l'uomo poi guidato dalla sua cupidigia preferì punirlo in un modo diverso il feudatario ordinò al povero uomo appena la sua morte di consegnargli tutta la produzione della sua vigna ma il vino doveva essere contenuto in anfore che avessero le sue fattezze travestito da donna il vignaiolo dovette girare per tutte le botteghe della zona per procurarsi delle anfore con i suoi tratti vestito da donna e le sue vigne produssero tanto vino da riempirne 700 ed aver salva la vita nessuno può sbilanciarsi su quanto di vero ci sia in questa storia ma di certo la leggenda ispirò ai maestri ceramisti grottagliesi l'idea di creare le pupe con i baffi a forma di bottiglia troppo morfa